Milano sempre in movimento, Milano che non si ferma, Milano sempre più capitale di moda, food e design, dal centro alle periferie e ritorno, accogliente come un salotto. Ed è una vera luxury experience nel cuore della città, in corso Venezia 7, quella che si respira al salotto di Milano. Idea del visionario Massimo Colauti è un concept unico dove, come in un salotto appunto, si accomodano tante belle realtà del made in Italy. Ma non solo. Dopo l'ultima design week, a colorare le pareti sono rimaste le wallpaper animaliere di Simone Guidarelli. Poetiche cromatiche per uno spazio che nella sua versatilità si presta ad ospitare tanti protagonisti del contemporaneo. Tra arte cinetica Grafismi optical Collage materici Tridimensionalità sorprendenti Salotto di Milano, un indirizzo dove bellezza, lusso ed emozione si incontrano. Grazie a tutti! Grazie a tutti!